Un brevissimo pensiero. Il Vangelo di oggi ci parla della passione che Dio ci chiede. Giocarci tutto per Lui. E fino a quando non avremo il coraggio di giocarci tutto per Lui, la nostra vita mancherà sempre del gusto vero, pieno. No, Dio non ci toglie, ma Dio ci dona il tesoro che è Lui. Dio non ci toglie il gusto del desiderio e della bellezza, ma ci dice di cercarlo al di là dell'apparenza, di trovare quella perla unica, così preziosa che dà senso a tutte le altre ricchezze. E' questa la vita che ci viene donata, perché ha il sapore della vita eterna, ma si realizza ogni giorno. E fino a quando non avremo il gusto del vivere ogni giorno con questo desiderio, con questa passione, stiamo buttando via il dono più bello, il dono che abbiamo ricevuto, il dono dell'essere figli amati da un Dio che non ci abbandona mai, che questi giorni ci aiutino a gustare questa bellezza, a portarla con noi perché altri possano camminare con noi cercando di dare pieno sapore a ogni giorno, a ogni istante, a ogni incontro della nostra vita. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Musica 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Alleluia, 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 Alleluia. Grazie a tutti. Uno studente che fa parte del personale di accoglienza mi ha chiesto se volece accogliere un pellegrino. Sono stata molto contenta dell'invito e ho subito risposto di sì. Non un pellegrino, ma cinque pellegrini. Perché? Il motivo più immediato è stato che quando mia figlia era piccola è stata accolta cinque volte da famiglia di diversi paesi europei quando ha partecipato all'incontro di Tese. Ora sarebbe una buona occasione per rimediare quello che hanno fatto per me. D'altra parte, condividere la nostra casa è anzi contribuire a costruire la pace. E' preparare l'arrivo e accogliere e conoscere e comprendere e rispettare la differenza. Le mie ragazze sono molto autonome e non portano più lavoro di me quanto io ne abbia nella mia giornata. Comunicare è sempre facile utilizzando la lingua inglese quando necessario. Sono molto educata e dicono sempre grazie per ogni mio gesto. Le mie ragazze hanno riempito la mia casa di sorrisi e ne sono grata. Possono portare la chiave di mia casa con loro in Italia e tornare quando vogliono. Grazie a tutti.